La Juventus ha vinto per l'undicesima volta la Coppa Italia. Milan fuori dalle coppe europee per il terzo anno consecutivo mai accaduto nell'era Berlusconi e Sassuolo ai preliminari di Europa League. La Juventus ha vinto per l'undicesima. La Juventus parte in segne con il destro in porta! 3-0 Napoli in segna calcio a San Siro. Tre gol contro il Milan. E la partita è praticamente chiusa. Mertens, provo ad accendersi Mertens, apre a sinistra bene verso Kulam, arriva il cross a basso insidioso e Rodrigo Eli. Arriva anche l'autorete per il 4-0 del Napoli ed è notte fonda per il Milan. Finisce! Con i fischi di San Siro da Colonna Sonora alla prestazione da dimenticare del Milan. Kragl ha un po' attenzione a Paganini! E c'è il vantaggio del Frosinone! Il vantaggio del Frosinone con Paganini! Dopo solo un minuto Emile è già sotto! Va Kragl col mancino! Direttamente in porta! E' un gol meraviglioso di Kragl! 1-0, Frosinone 2, l'eurofirma di Kragl! Va il rinvio a Bardi, lunghissimo a cercare la testa di Ciofani. Ci arriva Montolivo, poi Alex sbaglia tutto, regala la palla a Dionisi. Attenzione a Dionisi! Dionisi! 1-1, Frosinone 3, la firma di Dionisi! Ma che errore di Alex! Pallone che spiove, la rete! Rete! Il vantaggio dell'Allas! Al 94esimo! Il gol di Siligardi! Butta giù il muro del Milan! Il gol dell'ex non esulta Stefan El-Sharawi, ma dopo 14 minuti della ripresa, la Roma raddoppia. I due faraoni a decidere il match di San Siro, Rocchi non sa più cosa fare. Cerca di saltare l'uomo, il colpo di tacco, persa là, gol mancino, la prova! La risposta di Donnarumma! Il tap-in di Emerson per il 3-0 Roma! Si chiude qui virtualmente la partita a San Siro! Il variavitare l'uomo, il�lo fao! Grazie a tutti.